Bella ragazzi, in questo inizio video qua è Rosso Sangue e quest'oggi è un grande ritorno su Brawl Stars Come questo grande ritorno faremo un box opening, niente ragazzi vi lascio al video e niente bella Eccoci ragazzi, dopo tanto tempo faremo un box opening, abbiamo 10 soglie da aprire E niente, queste sono le mie soglie da aprire, speriamo che troviamo qualcosa di interessante E apriamo il primo box che non troviamo nulla, prendiamo le 10 gemme Apriamo questo boxettino, ha un po' laggato, uh, 37 d'oro, sicuro skip Ecco qui lo skip luminoso, speriamo di trovare un brawler E invece, no, no, gadget di Gelindo, però ci accontentiamo, abbiamo altre soglie da aprire Apriamo questa, non è che ci daranno molto queste piccole Speriamo in questa cassa enorme, un po' laggato, però niente, 100 d'oro, 130 anzi Niente, prendiamo 50 d'oro, altre cassa enorme, apriamo 44, peccato, peccato Pegni Ok Ok, ultima cassa enorme E no, è nulla Speriamo sulla mega cassa e ci porterà qualcosa ragazzi, speriamo, speriamo, speriamo Dai, 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 portaci fortuna, dai, dai Uh ragazzi, lagga, speriamo le 6 skip Aspettiamo i 3 saltini Ecco qui la scritta, apriami, apriamo Lag, e niente ragazzi, 5, 5, 5 E ragazzi, per questo primo box, dopo tanto tempo, è tutto Guardiamo il gadget di Gelindo, che non lo conosco È da tanto che non gioco a Brawl Stars E vabbè, vabbè, lo leggerò dopo E nulla ragazzi Ecco qui i miei Brawler Se magari, ma le eravate scordati E niente ragazzi Così, in extremis, ci miglioriamo Mr. P Lo potremmo portare a livello 9 Ma non lo facciamo Magari se lasciate 10 like, lo facciamo E niente ragazzi, per questo video è tutto Iscrivetevi, lasciate un like E niente, bella?